Papa Francesco ha presieduto sabato sera nella Basilica Vaticana la Viglia Pasquale. Nell'Omelia ha commentato l'invito dell'angelo ai discevoli a tornare in Galilea perché il Cristo risorto li precede. La Galilea, ha detto il Papa, è il luogo della prima chiamata dove tutto era iniziato. Tornare là, tornare al luogo della prima chiamata, significa riscoprire il nostro battesimo come sorgente viva, attingere energia nuova alla radice della nostra fede e della nostra esperienza cristiana. Significa tornare a quel punto incandescente in cui la grazia di Dio mi ha toccato all'inizio del cammino. È da quella scintilla che posso accendere il fuoco per l'oggi, per ogni giorno, e portare calore e luce ai miei fratelli e alle mie sorelle, testimoniando Cristo risorto con gioia umile e mite.